Questo è un bene confiscato 14 anni fa al clan dei Simeoli, un clan ancora attivo qui, lasciata nelle mani del clan per i 12 anni successivi, affidata a noi da un anno. Siamo a Chiaiano e la nostra azienda, questi 14 ettari di vigneto e pescheto, in realtà fa inserimento lavorativo di classi svantaggiate, è il primo bene agricolo confiscato di Napoli ed è il primo produttivo. I bilanci sono in positivo, anzi c'è l'idea di assumere uno dei ragazzi che fanno i percorsi di inserimento. Noi abbiamo un protocollo con il Dipartimento di Giustizia Minoliglia, per cui vengono qui ragazzi di alcune comunità penali di Napoli e qui con noi fanno un percorso lavorativo a tutti gli effetti. A gennaio partiremo col primo contratto di uno di questi ragazzi. Il riscatto parte proprio dai beni confiscati, i beni confiscati devono essere il volano dei nostri territori, di riscatto dei nostri territori. Da qui deve partire il lavoro e soprattutto di coloro che hanno sbagliato, qui tutti possiamo sbagliare, ma soprattutto l'idea che il figlio del camorrista venga qui a lavorare sul bene confiscato alla camorra. Insieme a noi faccia le marmellate per l'iniziativa facciamo un pacco alla camorra. Io dico che il pacco alla camorra l'abbiamo fatto al di là della vendita del pacco. Ecco, la camorra. La camorra come reagisce? Come ha preso questa vostra iniziativa? Ma ne abbiamo avuto qualche problemino, che io chiamo incidenti di percorso. Nel senso abbiamo avuto alberi sradicati durante la notte, abbiamo avuto fosse scavate qui a modi tomba sul vigneto, abbiamo avuto l'ultimo danno di 50 mila euro, sono venuti qui a pigliarsi i trattori. Il problema è questo, è che o è criminato organizzato, o è criminato al comune, noi da qui non ce ne andiamo. Ma non avete paura? Abbiamo assolutamente sì, certo che abbiamo paura. Il problema è che la paura più grande è che svegliarsi domani e sapere che non c'è più nulla da fare. Tra le due paure scelgo quella di stare qui ogni giorno e continuare ad impegnare.